Ecco il tubino scozzese, non so se si possa commentare la meraviglia di questo abito, io trovo che sia meraviglioso, bellissima l'idea, quest'anno il tartan e lo scozzese saranno uno dei temi più proposti, li vedremo un po' dappertutto, proposti da tutti gli stilisti e questo è secondo me un'idea bellissima, cioè proporre un capo classico con un tessuto molto alla moda. Qui ci sono le borghettine che vi ho fatto vedere prima, piccoline, delicate, un disegno a punte soltanto qui sulle spalle, tessuto morbidissimo, sembra di non avere niente indosso, nel senso che proprio non si sente, non springe, non costringe, assolutamente elasticissimo ed è anche molto bello, ho interpretato come hanno fatto anche sul sito Danny, sulla pagina Facebook Danny, cioè con sotto i leggings di jeans o dei jeans skinny, per fare un completo un po' originale. Poi è chiaro che il tubino da solo, con una bella calza e il décolleté, è una cosa che è sempre bella, va sempre bene, siete sempre molto eleganti. Io lo trovo veramente bellissimo. Grazie a tutti.